Bella rega, oggi siamo qui per documentare una cosa E' successa ora Quindi Sono tipo Quasi il primo Ci me ne fa vedere E' successa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Why? Allora ragazzi non le ziamo bene Ve lo ho già Ok Beh sì questa parte la possiamo anche saltare 4, 2, 1 Eccolo Eccolo 2019 Ok Quindi Ci sono ancora un po' di brillantini Quindi è finito Bella rega Spero che questa documentazione vi sia piaciuta Quindi è così che la Epic ci ha dato il buono 2019 Bella C'è un video molto obbligativo però giusto Ciao Ciao